Inaugurato nei padiglioni espositivi di Arezzo Fiere Congressi, Abitar, che è una rassegna di tutto quello che serve per la casa, dell'arredamento, e quindi quando si parla di arredamento per la casa non possiamo non parlare di artigianato. E tra coloro che hanno promosso questa iniziativa ci sono proprio le due associazioni dell'artigianato. Per Confartigianato cosa significa Abitar? Diciamo che è una delle manifestazioni di punta, anzi la manifestazione di punta proprio come dicevi di tutto ciò che riguarda il comparto casa. Chiaramente in un momento in cui l'economia ha un riflesso estremamente negativo proprio in questo settore, noi riteniamo che mettere in mostra quelle che sono le particolarità del nostro artigianato rivolto proprio al settore casa diventi importante proprio per una promozione delle aziende che partecipano. CNA invece lancia un'iniziativa un po' particolare, il low cost dell'arredamento. Beh, sì, ora non è solamente questo. Intanto con questa manifestazione si vuole mandare un segnale importante al mondo dei consumi. Gli artigiani si mettono in discussione, propongono cose nuove, fatte sempre con grande talento, con grande creatività. L'idea è di proporle in un contesto che tenga conto anche di quella che è l'andamento dell'economia generale, l'economia globale. Quindi l'idea è di proporre cose nuove, cose belle, ma anche a costi accessibili, mettendo tutti quanti in condizioni di acquistare artigianato di qualità.